Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi ha come protagonista un ragazzino di 12 anni che viene preso in giro dai compagni per i suoi denti. Fino a che un giorno la sua trasformazione non lascia tutti senza parole. Ma prima di iniziare ricordatevi di lasciarci un mi piace, seguite il nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Evan, il protagonista della nostra storia, viveva a Christchurch in Nuova Zelanda con i suoi genitori ed era un ragazzino come tutti gli altri. Ma c'era qualcosa che lo distingueva immediatamente da tutti i suoi compagni di classe. Aveva un grosso difetto ai denti, per cui veniva costantemente preso in giro a scuola. I bulli gli rendevano la vita talmente difficile che andare a scuola ogni giorno era diventato davvero pesante per il povero Evan, che spesso si chiedeva perché mi prendono in giro per qualcosa che non posso cambiare. I suoi denti da coniglio purtroppo non erano solo un difetto estetico, avevano avuto un grande impatto anche sulla sua capacità di parlare. La maggior parte di voi si starà chiedendo perché non poteva andare dal dentista e farsi mettere l'apparecchio. Può sembrare un'opzione ragionevole per molti di noi e avrebbe risolto il suo problema lasciandolo libero di vivere la sua adolescenza con serenità. Ma purtroppo le cose non erano così semplici. I suoi genitori non erano abbastanza benestanti da potersi permettere le costose cure odontotecniche di cui Evan aveva bisogno e non rientravano nemmeno nei criteri per ottenerle gratuitamente, ma senza aiuti le cure di Evan erano davvero al di fuori della portata dei suoi genitori. La sua famiglia, infatti, era in difficoltà economiche a seguito del gravissimo terremoto che aveva scosso la loro città nel 2011. Questo terremoto ha colpito duramente molte famiglie e così Evan e i suoi genitori vivevano col solo stipendio del padre e non potevano neanche permettersi una macchina, figuriamoci le cure dentali. Evan era davvero abbattuto dal suo aspetto e dal bullismo che subiva ogni giorno e la sua autostima era sotto i piedi. Il suo difetto, purtroppo, non era cosa di poco conto. Per darvi un'idea, una mascella normale ha un angolo di 2 gradi, mentre la sua aveva un angolo di 12 gradi e lo spazio tra i suoi denti superiori e inferiori era di 2 centimetri. Tutti gli abitanti del suo quartiere si erano accorti della sofferenza del ragazzino e uno di loro era un uomo gentile di nome Phil. Phil era determinato ad aiutare Evan in qualche modo, così ha avuto un'idea. D'accordo con Evan e i suoi genitori ha contattato uno show televisivo che ha raccontato la sua storia. I medici hanno stimato che le spese totali del suo trattamento ortodontico sarebbero state di circa 8.300 dollari, una cifra davvero enorme. Ma inaspettatamente il pubblico dello show ha reagito in modo commovente e questo ha portato un enorme cambiamento nella vita di Evan. I produttori dello show, infatti, hanno creato un fondo attraverso il quale le persone potevano donare denaro per sostenere il trattamento di Evan, ma sarebbero riusciti a raggiungere l'obiettivo desiderato. Erano davvero tanti soldi. Ma la vita aveva in serbo una sorpresa per il piccolo Evan. Lo show era seguito in tutto il paese e centinaia di persone hanno donato qualcosa per finanziare il suo trattamento ortodontico. E anche se l'obiettivo era di 8.300 dollari, alla fine hanno raccolto ben 69.200 dollari. È stata una grande sorpresa per Evan e la sua famiglia, perché finalmente il ragazzino avrebbe potuto vivere una vita normale e serena. I medici che lo hanno curato hanno raccontato che il suo caso era grave e che hanno dovuto spostargli i denti di ben 5,5 cm. Sua madre ha raccontato che prima del trattamento si sentivano così impotenti davanti alla sofferenza del loro bambino che avevano persino pensato a ipotecare la loro casa per pagargli le cure. Ma la generosità delle persone, per fortuna, ha fatto sì che non sia stato necessario. Ora Evan ha un bel sorriso e vive una vita tranquilla e libera da tutte le sue vecchie insicurezze. Il denaro ricevuto dalla sua famiglia grazie al programma televisivo superava di molto il loro obiettivo. Così hanno deciso di donarlo per finanziare le cure dentali di altri bambini sfortunati. Dopo l'intervento Evan è stato contentissimo, non riusciva a credere ai suoi occhi e non riusciva a smettere di guardarsi allo specchio. Non si era mai sentito così sicuro di sé. Per fortuna Evan è riuscito a farsi aggiustare i denti, ma la sua storia deve servire da lezione a tutti noi. Non dobbiamo mai far notare agli altri le loro insicurezze, perché potrebbe farli soffrire in modi che non possiamo nemmeno immaginare. E in fondo, come dice il detto, non fare mai agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te.